Se questo video arriva a 20.000 like andiamo a leggere metà direct di Tube e metà di Ninio Raga, nei commenti bombardate di hashtag cammello Amori miei, benvenuti quest'oggi carichissimi che non mai come sempre sul canalozzo con un nuovo video Che ci piace tanto naturalmente in compagnia dei miei due pilastri, sia Tuberanza e fratello Ninio Signori siamo tanto carichi perché lì che vedete ci sono due bombe pronte ad esplodere Ecco, è già bollino giallo Alla bomberoni, oltre che bombe, signora i meloni, signora Allora io vi dico che questi video qua sono tutti da bollino giallo, siamo già partiti benissimo Oh però prima di iniziare chiederei una cosa ai bomberoni da casa 20.000 like, se questo video arriva a 20.000 like andiamo a leggere metà direct di Tube e metà di Ninio I primi 5 a testa Io però sono incuriosito da quei 7 che vedo lì sopra Esatto Eh sì, eh sì, eh sì Allora, oggi La vera domanda, la vera domanda è Ma quanto è zector? Allora, ragazzi Eh la peppina di... io direi di partire già con questa Eh vabbò Eh vabbò Allora, cercando di essere il più family friend possibile Diciamo la scungullo o non la scungullo Ok Va bene Fratello, fratello Sì, parti da che sei caro Madonna No, no, voglio sentire Tube un attimo No, no No, perché ti voglio far vedere che mi è uscito il mom poco fa pure a me Sì Eh, tu che faresti Tube? Tube, tu che faresti? Intanto prima dietro era una siepe, ma è diventata una giungla comunque Tu lo sai come si suona un tamburo? No Non sai come si suonano i tamburi? Non voglio sentire l'***a Che ti dici? Dilo, dilo, dilo No, no, niente Era per farti capire che i tamburi vengono un po' Vengono un po' sbattuti, no? I tamburi Come pensavrai No, no, no Vabbè, ok, non me l'hai detto tu No, no, no Io mi disse Quindi la scungullerei Eh, tu beh Aspetta, magari c'è una seconda Oh, aspetta, c'è una seconda Aspetta No, no Allora, allora Fisicamente esplosiva No, 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 non lo fare, non lo fare, non lo fare Metti quella, fidati Ah, no, 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 no Sì, allora sì, 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 sì E qui ragazzi Vedete un esemplare di buffone qua sotto Perché l'altra volta aveva detto che non la voleva sgungullare Buone pagliaccio Ma scusami, ma io qui vedo due pompe di benzina diesel No, no, ragazzi Questa già avevi detto che non la volevi sgungullare Ah, beh, oggi, oggi sono Oggi, siccome oggi sto carico Che non No, no, no Mi disso Mi disso No, no, no Mi disso Signore, signore di YouTube Ovviamente è Goliardi No 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 Era il sesto setube che parlava Il tubesterone Eh, mamma mia ragazzi Ma più guarda foto più viene fuori Ninio Eh, pure io più guardo le foto più mi viene fuori Comunque Ma da un voto Da una a dieci, tube Eh, beh, otto, otto e mezzo Ma io ho nove Ho tutto in nove e in mezzo Vabbè, otto e mezzo è ottimo No, io mi appoggio a Ninio, ragazzi Nove e mezzo No, no Che t'appoggi, Nino Dai lontano Che t'appoggi è già pericolosissimo Eh, Carolina Complimenti Complimenti veramente Il mio Instagram è sempre a disposizione per ragazze come te Ah, nel dubbio Giustamente diciamolo da casa perché magari non lo stanno Il mio Instagram, ragazzi, è questo qui, eh Vedi Nicola Trombi, dicono Oppure Per le donzelle Al contrario Trombi Nicola Oggi è un fire, ragazzi Oggi è un fire Oh, ragazzi Escono a manetta Oggi escono a profusione Amore mio Sì, escono a profusione Che cosa? I meloni Mi apri il profilo? Certo Ma io da qui non è che scrive da... Ma io apro tutto Oh, aspetta Ehmadonna, bro Questa Questa Bravo Questa, vuoi? Ehmadonna, quei calzini, frate Lì, una Guardate i calzini, quei No, 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 no No, ragazzi Questo è un video Pei, 18 No, ragazzi È Bollino rosso Poglie, ragazzi Se non mi vedete più su YouTube Perché sono stato bannato Io vi ho voluto bene Quindi tube Quindi sgunculo, sì Sgunculo E porco 2, sì Sgunculo e risgunculo Più volte Ehmadonna, credo Ehmadonna, che probabilmente Alla seconda Già morirei Tipo Ehmadonna, no, no, no No, 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 no No, 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 no Valeria amore mio Chiamami Sono il fruttivendolo della Puglia Vieni qua Adesso voglio dirvi una cosa Io non la conosco So che è fidanzata Quindi auguri Auguri con il suo ragazzo Naturalmente prendiamo tutte ragazze Della home Della bacche È tatuaggi questa ragazzi Attenzione che forse C'è un'altra foto C'è un'altra foto Non significa che se sia tatuata Aspetta 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 Allora Qui a lei Applicherei Sinceramente Guardandola bene Attentamente Tutti i lineamenti Tutto quanto Ma Per il mio gusto Userei La teoria Del gamberetto Cioè Tolta la testa Il resto è buono Ma che c***o Ma fra è un pagliaccio Tu prendi naso da pagliaccio Tu ce l'hai lì No io non ce l'ho fra Bene Sì e bene A parte molto carina Ma non Non è Beh sì lecca mi sto grandissimo Beh sì Beh sì Beh sì Porca foglia Ragazzi tube Ma quindi da 1 a 10 nino 7 e mezzo Turbo 8 8 dai Una bella ragazza Una bella ragazza Ma chi è? Oddio Aspetta Aspetta Ci sono le chiavette per C'è il piercing sul capezzolo fra Ma italiana Amore mio Scrivimi Scrivimi bambolina Che ti porto a prendere il sushi Tu metti le bacchette Io il pesce Oh no Oh ma vedi Avete visto la Il comignolo Hai visto il tetto? Hai visto il tetto? Io il comignolo Ho guardato Questa è la classica tipa Che Che non gliela puoi fare Questa non gliela puoi fare E Zè No no Non ce la fai Non ce la fai No non ce la fai Non ce la fai Allora Chiara Per quanto sia Facciamo un video Che lo mandiamo a Tube E facciamo vedere Fra dove gli metti mano qui? Che gli fai? Ma io non gli metto solo le mani Ma non puoi fare niente fra Sai come fai? Fai così guarda C'è capisci? Tube un voto da 1 a 10 Ma 11 Anche se non è bello votare Ma ha una scala Per rendere l'idea Una scala Ma quello è il gabbello Pitti No a scala 9 9 9 Come 9 9 E manca quel tocco in più Per dargli a me il Golden Non so io che manca Ragazzi no aspetta Nello Mangano No Ma Ragazzi Guardate le facce di tuffe Io le do Ragazzi E' una gran bella ragazza No ti dico io E tu non gli dico Oh c'è un raggio Ma Oh 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 Regà Andate indietro E si diceva Oh C'è il mio like Secondo dopo che il cuore era rosso Ho detto Oh cacchio Bellissima Chiara Bellissima Tra l'altro sei di Rimini Siamo anche vicini Quindi sto un giorno di farti due chiacchiere Ricordati il Ragazzi E' una bellissima Milf Quindi siccome Questa è nino Nino Dai Esprimisciti Eh ragazzi Lei Madonna Eh Si 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 è panterona Panterona Io le do 9 ml Bellissima Signori L'ultima del giorno Oggi ragazzi Tra l'altro Episodio succoso Perché è una più la dell'altra Veramente oggi Tanta ma tanta roba C'è stata pure l'asse del microfono Quindi Allora Partiamo da Intanto fatemi vedere le foto Ragazzi il body Madonna mi Veramente mi fa soffrire No 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 Quello è No frate Quello è davvero illegale Cioè E' lì tipo Boh vabbè Non mi fate parlare Perché se no ti faccio Bannà Eh bro Eh Erbodino Amore mio Mamma il body bro Mamma Lei si chiama Carmen Ragazzi Quindi Vuole partire Parto io Parti voi Partisci voi Parto io Parto io Intanto parti Io beh La madonna Pdella Eh la madonna Pdella Eh No nove e mezzo bro Cioè Non è da dieci come l'altra di prima Perché quella fra Cioè Quella è Ma Madre natura Te la sconguleresti tu Questa Questa Quando dice così mi fa morire Sì Minio Eh che dire Un nove Se guardate Se guardate attentamente Questa foto Bombardate Bombardate Di Hashtag Cammello Non N ahahahah ahahahah ahahahah